Siamo giunti al Museo della Menta, siamo in compagnia di Angela Senestro, consigliere comunale per le manifestazioni, buongiorno, grazie di essere con noi e ci accompagnerà a visita la Chiesa dei Frati che viene utilizzata come spazio culturale dal Comune in occasione del viverbe, vedrete delle opere esposte, noi faremo una bella panora. Siamo con Stefano, quindi intanto ciao e grazie per essere qui, oltre che essere in questa fortunata e leggendaria da quello che mi dicono manifestazione, sei anche sui microfoni di PWR Radio. Amici di PWR, sempre per la 39esima edizione di Viverbe, siamo qui con Monica, il sogno nel confetto di Vigone. Quindi raccontaci un pochettino, eccoci allora anche per una carrellata così di quelle che sono le principali attività commerciali coinvolte in questa 39esima edizione di Viverbe. Siamo qui con Pina, ciao Pina. Tra la realtà di questo territorio e quindi azienda agricola Gigo Miranda, ciao. Ciao. Tu sei? Gigo Miranda, in persona. Mamma mia, siamo stati super fortunati. Allora presentaci, raccontaci qualcosina della tua azienda e di questi prodotti. Amici di PWR, allora siamo qui con Alessia, presidentessa della Proloco di Pancalieri. Intanto grazie per averci ospitato e grazie per questa bella manifestazione. 39esima edizione dicevamo di Viverbe. Allora presentazione.